Come ogni anno la Coop dà al pubblico genovese la possibilità di incontrare e di dialogare con un protagonista degli spettacoli in calendario. Quest'anno con nostro grande piacere la scelta è caduta su Tony Servillo, che è senza dubbio l'attore più interessante del panorama cinematografico italiano degli ultimi tempi. Qui a Genova sta portando nella duplice veste di attore e di regista la trilogia della villeggiatura di Goldoni. La trilogia, come sapete, è un appuntamento teatrale che non manca mai in calendario, forse perché parla del Settecento ma in realtà parla dei giorni nostri. Soprattutto di una classe borghese, mercantile, veneziana del Settecento, come motore di un esperimento sociale nei confronti di una nobiltà sempre più lassista, irresponsabile, lo porta all'esilio. Lui trascorre gli ultimi vent'anni della sua vita in Francia, in Parigi, insegna l'italiano ai figli del re. E in queste commedie vi è un ritratto amaro di questa borghesia, come risulta molto evidente in questo testo, in questi tre testi. Io parlo di borghesia ma si può parlare in generale di una classe imprenditoriale, dove per impresa non si deve intendere soltanto l'impresa industriale, ma insomma una classe che ha una responsabilità di guida, di elite, di segnale e quindi un'impresa culturale, giornalisti, artisti, industriali, uomini della finanza, insomma, che è in un impasse, cioè in un evidente stato di difficoltà, in una grande difficoltà a guardare al passato, nei suoi esempi migliori, in una grande difficoltà a progettare il futuro come alternativo al presente, invece un'ossessione legata a un presente a cui si chiede una felicità a buon mercato. Questo mi sembra un risultato piuttosto, cioè un ritratto piuttosto simile ai tempi che viviamo. Certo i tempi che viviamo, se leggiamo i giornali di ieri e di oggi, ci superano pure a sinistra, perché è altra che impasse. Siamo nella... Vabbè, questo è un altro argomento, ma insomma c'è da rimanere veramente, ormai il paese è con le mani nel fango completamente, altro che tangentopoli, sembra che viviamo momenti peggiori. Però, insomma, per restare ai testi, insomma, questo è il racconto che fa, e mi sembra un racconto molto fedele, non solo di una, ma anche di una condizione italiana, tutta italiana, no? Cioè di una spensieratezza critica, di un cinismo irresponsabile, che riguarda alcuni personaggi, che riguarda un po' l'atmosfera generale che c'è nel testo. Ma anche di un momento in cui forse questo paese è stato per l'ultima volta veramente felice, che era un secolo, il Settecento. Insomma, ci sono una quantità di spunti in una varietà di temi. C'è anche l'amore e il denaro, stavo pensando. C'è l'impasto dell'amore e del denaro, c'è il personaggio femminile forse più bello della nostra letteratura drammatica, che è appunto già cinta. D'altronde in Goldoni c'è un universo del femminile, c'è un'enciclopedia del femminile che non si trova neanche nella letteratura italiana. Sembra essere un po' come Marivaux, un uomo capace, con la poesia drammatica, di aprire un cassetto dei personaggi femminili e andare a tirare fuori sensazioni, pensieri, movimenti psicologici, i più riposti. Quindi, insomma, per questa ragione mi sembrava molto interessante. Poi le ragioni sono tante. Mi piace che il teatro sia una festa dei sensi e dell'intelligenza e perché sia una festa, mi piacciono gli spettacoli, sono tanti personaggi, sono rappresentati un po' anagraficamente tutte le età, in modo che sia per tre ore un compendio della vita il teatro. E questo testo offre una distribuzione in questo senso. C'è una compagnia dove c'è metà degli attori, che sono attori alcuni che lavoravano già con noi da molto tempo, di esperienza, ma metà della compagnia sono giovanissimi attori che quando hanno cominciato avevano sotto i 30 anni e in ruoli importanti, in ruoli importanti appunto, dalla protagonista ad altri ruoli importanti di giovani. Quindi questi sono un po' a largo braccio, raggio, voglio dire, le ragioni che mi hanno portato a fare la trilogia della videggiatura. La trilogia di Servino è piaciuta moltissimo ai critici, tant'è vero che non riusciresti a trovare una critica negativa. Io mi sono segnata alcune delle frasi che ho sentito dire alla prima qui a Genova. Allora, si va di gran carriera, spumeggiante, sembra Marivaux, il suo personaggio è perfido, si vede che dopo il divo si voleva divertire. È vero? No, sembra Marivaux mi sembra l'osservazione appunto più, che mi fa più piacere notare, perché da una parte su Goldoni esiste il luogo comune che esiste su tutti i classici, cioè lo si accantona, lo si approfondisce, lo si ritiene qualche cosa da consegnare alle antologie, a scuola lo si insegna male, come si insegna male Pirandello, forse a volte i programmi scolastici non ci arrivano neanche a questi autori immensi che hanno raccontato il nostro paese, la nostra italianità, come pochi. Ma Goldoni è un grande autore del 700, del 700 europeo, non solo italiano, e come dicevo prima raggiunge in alcuni personaggi, in alcuni casi, secondo me la statura psicologica, quella raffinatezza, quella, come dire, quell'intarsio, quella tela sottile di psicologie, di dinamiche, del profondo, che io ho avuto il piacere di mettere in scena di Marivaux le false confidenze, insomma che ci sono in alcuni grandi personaggi di Marivaux. io mi sono divertito a fare anche il divo, quindi non, certo il personaggio era un po' più rigido, meno, 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 sì sicuramente il cinema non mi offre l'occasione che invece io mi do a teatro di fare dei personaggi divertenti, e anche comici e spero che avvenga prima o poi insomma, ma non c'è relazione tra le due cose. Come attore Servillo si è riservato un personaggio che è veramente bellissimo, perché è Ferdinando, che è un cicisbeo, assolutamente senza vergogna, cinico, sul furio, veramente perfido, che corteggia una vecchia signora sperando in un cospicuo lascito, e quindi non certo per amore, e ha un po' la funzione di smascherare questi rapporti finti che si creano tra i personaggi. Ed è molto particolare la recitazione di Servillo, perché ha un tono strascicato, tutta una serie di mosse, quell'estenuato ancheggio che strappa l'applauso tutte le volte. Com'è avvenuta questa costruzione di personaggio? Ma io non scelgo quasi mai un personaggio e poi la commedia e poi l'autore, faccio il processo contrario, cioè scelgo di confrontarmi, ma confrontarmi nel senso di approfondire un autore, e quindi in questo caso ho scelto Goldoni, poi il testo e poi il personaggio. E fino all'ultimo non sapevo esattamente, quando non avevo ancora trovato l'attrice che faceva Giacinta, per un po' avevo pensato di fare Filippo. Poi quando ho incontrato Anna, insomma non mi sono sentito di fare il padre di Anna nella finzione, e quindi poi ho chiesto di farlo a Paolo Graziosi che lo fa magnificamente. Ferdinando è un personaggio un po' ideale per il regista, perché siccome si sposta da una casa all'altra, sta un po' nelle zone strategiche dello spettacolo, compare. E poi mi piaceva farlo perché il personaggio forse è più comico, ma è anche l'esempio, il personaggio più laido. In questa straordinaria metafora del villeggiare che inventa Goldoni, dove il gioco sta fra gli ozzi della vacanza e i negozi della città, tra gli ozzi, il non far nulla, dove prendono piede i sentimenti, il privato dei personaggi, nel villeggiare, e invece i negozi della città, che sono la capacità di progetto, gli affari, il senso di responsabilità, inventa questo personaggio che è il peggiore nelle scelte o nella mediazione tra questi due momenti altrettanto importanti della vita, l'ozio e il negozio, che è uno che proprio sceglie la via del parassitismo totale, cioè che offre l'esempio peggiore, cioè non gode né degli ozzi e neanche saprebbe affrontare i negozi, ma attenta alle fortune di una vecchia vedova un po' matta, con qualche prurito ancora da soddisfare per poter aprire un piccolo negozietto e continuare a vivere. Cioè l'esempio, se noi leggiamo in questo testo appunto una classe media, una borghesia, gli uomini di una certa età in grave difficoltà ideologica, una grande accidia emotiva, spirituale, intellettuale, un senso di irresponsabilità, come dicevo prima, un'incapacità a progettare, vediamo anche un ritratto della gioventù, cioè di una gioventù molto disorientata per responsabilità proprie e di chi li ha messi al mondo, ma il personaggio di Ferdinando è di quegli speculatori che vivono bene, come le cozze nel mare, che prendono nel mare inquinato, la cozza raccoglie il peggio e poi lo restituisce. Lui è come se fosse proprio il peggio del peggio, quelli che in queste situazioni sguazzano, quelli che in queste situazioni di difficoltà si muovono molto meglio che se invece le situazioni fossero più chiare, più nitide, se le regole fossero più evidenti e vi fosse maggior senso di responsabilità a farle rispettare. Questo personaggio qui, molto spesso poi questi delinquenti risultano anche a teatro, simpatici, ma questo non li assolve per nulla da loro, tant'è vero che lui si congeda dal pubblico per chi ha visto lo spettacolo in una scena che veramente era capricciante, una lettura di questa lettera dove sbugiarda questa povera donna che comunque è innamorata di lui e lui ne fa scempio, scempio proprio dei sentimenti in maniera spettacolare, ridendo con delle altre donne alle spalle della povera Sabina.